Siamo con i conduttori del concertone del primo maggio e l'atmosfera già mi sembra da concertone, no? Sì, sì, l'atmosfera è ottima, è ottima. C'è una tristezza e imbarazzante. C'è una grande atmosfera, soprattutto perché ha un ottimo olfatto, quindi non per me. Sì, abbiamo addosso diciamo Roma, tutta però. C'è un bellissimo concerto in Odorama. Odorama? Odorama, anche Odorama. Non faccio in te non saperlo che l'hai ospitato a casa tua. Devi svelare adesso... Vabbè, comunque, allora, intanto il vostro rapporto col concertone. Tu sei romana, quindi sei mai stata dall'altra parte? Sì, ma molto distante dal palco, credo a via del corso, non so. Ma si sente anche da là, perciò sì, ci sono state un sacco di volte. Ti ricordi un'esibizione che ti è particolarmente rimasta nella memoria? Ma in realtà... Qualcuno che suonava per strada in via del corso in quel momento. Sì, il mio desiderio incontenibile di cantare al posto di chiunque fosse su quel palco. Mentre tu, vabbè, e voi con lo stato sociale... La tua... Avevo il mio desiderio irresistibile di non cantare e farmi sostituire da chiunque su quel palco, sì, sì. Ma è un palco che fa paura, anche allo stato sociale? No, io non ho mai paura del palco, ho paura della televisione, perché lì mi possono vedere anche quelli che mi odiano. E ho tanta paura, e poi mi vedono i miei genitori in televisione. Ed è meglio che non ti vedano. No, io mi imbarazzo con i miei genitori, sono un ragazzo timido. Veramente? Sì, 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 no, me lo ricordo. Non ci ho neanche provato, è evidente che sono un ragazzo timido. No, questo non ci credo. No, perché sicuramente esercitavi un certo fascino su di lui, però non c'è le regole. E non hai mai smesso? No, ma... Ok. No, molto affascinante. Detto da Ambra, questa la salviamo per tutta la vita. Quando vi hanno proposto di presentare, cosa avete pensato? Ma io ho pensato che l'avete pensato tutti questa cosa, una volta nella vita. perché io invece non me la sono fatta questa domanda, tu ti sei detto oddio che faccio la presenta. No, io cioè in realtà ho tantissima voglia di cambiare mestiere ogni cinque anni nella vita. Io l'ho fatto, pensa. È bello? È molto divertente. Oh, vedi? Sì, sì. Cioè gli altri si incazzano tantissimo, però tu puoi divertirti se vuoi. Beh, il fatto che gli altri si incazzano un po' fa ridere comunque. Lo penso anch'io. Quindi ci sta. Voi avete una cosa in comune che è il teatro. Sì, è vero. Sì, una settimana a lei e una settimana a me. Mi avete già parlato. Perché non recitate insieme? Perché non recitiamo insieme? Perché lui è troppo fico, troppo lindy, troppo... Sì, io sono un po', hai capito. Sono un po' là. Sì, sì, sì. Si arrota i baffi. Sì, sì, sì. Sono un po' strani. Si arrota i baffi. Sì, sì, sì. Oh mio Dio, questa mi piace più. Riccio le garanti. Ecco, avete trovato un argomento interessante. Questo fatto dell'indy, questo è un concertone molto indie. Voi vi sentite due conduttori indie? No. No. Sicuri? Era indie il pensiero, però. C'è quell'attimo di silenzio che ho lasciato. Ah, ok, ok. C'è, a parte lo stato sociale, una band che seguite di questa scena indipendente con particolare attenzione? Beh, c'è... C'è Ministri, qualche Sperbasta, un po' Gemitai, questa roba qua. Sono anche cose più sconosciute, però non te le devo mica dire a te. I primi tre che le vengono in mente, ma ce ne sono almeno 20 che le piacciono proprio. Sì, sì. Molto. Sì. Ma tu lo stato sociale li ascoltavi? Prima di conoscerlo, e adesso no, cioè li conoscevo, certo, sì, sì. Poi si può smettere? Amavo molto le cosce di Lodo, sì, sì. Una, quella che si vedeva. Quella che si vedeva. Sì, sì, perché l'altra ha una cicatrice strana. Ah, sì. È stato uno squalo. Mi ha mostrato... Vabbè, ma tu ce l'hai avuto a casa, lo sai. Tu, lui, da te che ce l'hai a casa tua, dai.